Come ogni città, anche Londra ha i suoi quartieri ok o not, eppure essendo divise in zone, questa divisione non è circoncentricamente perfetta. Non potremmo mai dire la zona 1 è sicura e la 2 no, sarebbe un grandissimo errore. Infatti, in questo video parlerò di alcuni quartieri pericolosi di Londra, a prescindere dalla zona a cui essi appartengono. Ma prima di tutto, sigla! A Londra, la criminalità ha dei picchi in alcuni quartieri in particolare. Per tenere costantemente aggiornati sull'argomento tutti gli abitanti e anche i visitatori, la polizia londinese ha creato una sorta di mappa del crimine, che puoi consultare sul sito della polizia di Stato britannica. I quartieri colorati di rosso sono quelli con un livello di criminalità molto molto alta. Westminster è il centro della vita politica e culturale del Regno Unito. La notizia può stupire, ma rendere questo quartiere uno dei luoghi più pericolosi di Londra è proprio la sua fama ed il continuo via vai dei turisti e di visitatori. Essendo sede del Parlamento, del governo, della monarchia Buckingham Palace, per intenderci, dell'alta corte di giustizia, ma anche di attrazioni turistiche famose in tutto il mondo come Piccadilly Circus e Hyde Park, il rischio di attentati terroristici è sempre molto alto. Come lo è, dopo tutto, anche il Vaticano e Roma. Insomma, tutto il mondo è paese. Camden Town si trova al nord di Londra ed è famosa per i suoi colori e il suo mercato all'aperto. Camden Lock è una delle maggiori attrazioni turistiche specialmente nel weekend, poiché si riescono a trovare a prezzi accessibili prodotti di ogni tipologia, inclusi abbigliamento, libri, cibo, antiquariato e oggetti bizzari ed alternativi. Camden, però di notte a chiusura dei negozi, si trasforma in un luogo pericoloso e poco raccomandabile. Ci sono piazze di spaccio e personaggi poco raccomandabili che cercheranno di vendere qualsiasi cosa e a qualsiasi prezzo. Ti sarà facile inoltre vedere persone ombraghe cacciate dai club e tipi luschi che se ne approfittano. E poi c'è Kensington e Chelsea e queste vanno insieme. E sono quartiere famosi per la presenza di Angels ed è la sede del Carnevale di Notting Hill, la festa di strada più grande d'Europa. Questi due quartieri comprendono diverse aree residenziali molto costose e al contempo anche altre aree incredibilmente povere. Quindi se riuscite a trovare una stanza che sia economicamente sostenibile in questi quartieri, sono sicurissimo che al 100% ve la stanno proponendo in una delle aree più povere e quindi più pericolose. Attenzione. Soho. E poi è il quartiere pericoloso da evitare per eccellenza, soprattutto di notte. È la sede di numerosi sexy shop autorizzati e cinema a luci rosse. E qui la prostituzione è ancora diffusa in alcune aree. È adiacente a Piccadilly Circus e King Cross Road ed è la dimora di tanti spacciatori, di prostitute e persone violente. Ed infine possiamo parlare di Brixon che si trova a sud della città ed è considerato un quartiere pericoloso sin dalle prime ore della sera. Frequentato dalle baby gang insediatesi nel tempo, resta un quartiere molto mal visto persino dalla polizia londinese. Alcuni lo definiscono addirittura il Bronx di Londra, visto l'alto numero di ubriachi in giro per il quartiere. Altri lo ricordano per i Brixon Riots, ovvero una protesta sociale che si trasformò in razzie e violenze gratuite, date lì e dilagate poi in tutta la città e a per diversi giorni. Londra è una città stupenda, ma come tante grandi città ha anche lei i quartieri poco raccomandabili che sarebbe meglio evitare durante la notte. In ogni caso, non escludere questi tra i possibili luoghi da visitare durante le ore diurne. Nonostante la loro parentesi notturna, sin dal mattino hanno davvero tantissimo da offrire e sono meravigliosi. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se mi stai guardando su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare il tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!